Sono il capitano di questa squadra da un po' d'anni. Mi sento di dire questa cosa da parte mia in primis e da parte di tutta la squadra. E comunque entrare oggi e vedere magari lo stadio vuoto così e giocare in queste condizioni sicuramente non è una bella cosa per noi e questo non aiuta nessuno. Noi vogliamo i nostri tifosi vicino perché comunque sono fondamentali per il nostro campionato. Quindi questo mi sento di dire questa cosa qua. Poi non voglio entrare in cose burocratiche, chi ha torto e chi ha ragione. Questo non mi interessa. Però quello che volevo dire da parte mia e da parte di tutta la squadra è che noi vogliamo il nostro pubblico che ci sia vicino. Poi spero che questa questione si risolva più presto. No, ma puoi giocare contro chiunque. Contro la Roma, contro il Milan, contro il Manchester è uguale. Diciamo che il calcio è fatto così. Quando hai tifosi da tua parte che ti stimolano e ti danno una grande mano questo penso per me e per tutti i miei compagni sia di grande aiuto. Quindi penso giocare in uno stadio vuoto sia brutto per noi.